La richiesta di Forza Italia è chiara, un assessorato che è nelle corde della composizione della giunta, che potrebbe tornare a Maria Luisa Ianni, che assessore lo è già stata. La crisi di maggioranza in comune ancora non rientra, ma potrebbe avere le ore contate, così almeno sperano tutti. È il senatore di Fratelli d'Italia, Guido Liris, che ha avuto il compito ufficiale dal partito di sbrogliare la matassa. Sul piatto dunque ci potrebbe essere un rimpastino di giunta. Forza Italia ad oggi non ha più assessori, dopo che Roberto Tinari è passata all'Udc. Quindi la richiesta appare pure legittima, ma gli azzurri si sono rafforzati, incamerando il consigliere D'Angelo e il presidente del Consiglio Comunale Sant'Angelo. A breve altri potrebbero seguirli. Al rischio potrebbe esserci l'assessore alla mobilità Paolo Giuliani, estranea le logiche di partito perché assessore tecnico. Sacrificarla potrebbe non creare ulteriori scontri tra i partiti, anche in vista delle regionali. A Forza Italia però, a quanto pare, non è andata bene la difesa d'ufficio di Biondi da parte del portavoce comunale Michele Malafoglia. Biondi finora non ha voluto il confronto con Giorgio De Matteis e soci, ma avrebbe dovuto, non per il ruolo di sindaco, ma per quello che rappresenta con il partito della Meloni. I ben informati dicono che proprio questo ha fatto infuriare Forza Italia, che è partito ufficiale che fa parte della coalizione, che avrebbe voluto certamente maggiore considerazione. Liris, nell'intervista rilasciata a Reteotto sabato, ha affermato a chiare note che non è possibile una crisi in comune in questo momento e che con il sindaco avrebbero valutato serenamente la possibilità di un assessorato per gli azzurri a riequilibrare i conti.